guarda qui che meraviglia per fare le frittelle di mela per prima cosa andiamo a sbucciare proprio le mele io utilizzo un pela patate perché mi è più comodo, non sono capace a fare il classico giro che si fa per sbucciarle lo so, sono un caso disperato come si suol dire poi se hai il togli torsolo usa quello, io siccome non ce l'ho mi ingegno con il coltello facendo un cerchio da un lato e anche dall'altro tagliamo le mele a uno spessore di un centimetro e facciamo la stessa cosa anche con l'altra ok adesso prendiamo le fettine di mela e aggiungiamo del succo di limone per non farle annerire questo qui è già in bottiglia, già pronto come si suol dire ma puoi utilizzare direttamente il succo dell'agrume ovviamente e poi un cucchiaio di zucchero semolato e mettiamo da parte, intanto prepariamo la pastella rompendo le uova all'interno di una ciotola aggiungendo lo zucchero mescoliamo poi aggiungiamo 3 cucchiai di brandy marsala, succo d'arancia o come nel mio caso, bayliss poi il latte la cannella che è facoltativa ma con le mele ci sta benissimo e a noi piace quindi la metto lievito e in ultimo la farina se vuoi per aromatizzare puoi aggiungere anche della scorza d'arancia mescoliamo il tutto molto velocemente per evitare la formazione di grumi ed ecco pronta la nostra pastella adesso la lasciamo riposare a temperatura ambiente ed intanto portiamo a temperatura l'olio per friggere ed adesso andiamo a tuffare le fettine di mela all'interno della pastella per friggere sto utilizzando dell'olio di semi d'arachidi ancora come vedi le bollicine non si sono formate anzi adesso si quindi significa che possiamo andare a tuffare le nostre frittelle visto che ci sono delle bollicine quindi è arrivato il momento si devono ovviamente dorare queste frittelle sono tipiche del trentino se sente ollerante al latte in sostituzione puoi utilizzare della semplice acqua oppure del latte vegetale o ancora del succo d'arancia oggi avevo proprio voglia di friggere anche perché è quasi carnevale quindi il periodo è giusto come vedi nel fritto è tutto ben organizzato qui abbiamo la pastella qui l'olio con le frittelle che friggono e si sente abbondantemente il rumore qui le mele ancora da cuocere e questo è il piatto con la carta scottex dove andremo a scolare il nostro fritto qui intanto vanno queste ci siamo quasi visto come si stanno ben dorando ed è così che devono venire il fritto ha bisogno di calma di conseguenza resiste la tentazione di toglierle quasi subito perché altrimenti non è vero fritto per essere un fritto ad hoc deve essere dorato come in questo caso ok possiamo scolare e a questo punto hai due alternative o passarle subito nello zucchero semolato oppure attendere un pochettino che si raffreddino e spolverizzarle di zucchero a velo io farò in questo modo se ti dovesse avanzare della pastella non la buttare perché in cucina non si butta via mai niente ma facci dei muffin quindi versi l'impasto in dei pelottini e li cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti se vuoi rendere più goloso questo impasto per i muffin puoi aggiungerci delle gocce di cioccolato inoltre ora che mi sta venendo in mente puoi realizzarci anche dei pancakes come avevo previsto ho avanzato della pastella quindi la utilizzerò per i pancakes ora ti faccio vedere come si fa così c'hai due ricette in una ho unto la padella con un goccio di uomo di semi qui vado a spolverizzare con lo zucchero a velo ed è già subito carnevale frittelle pronte mettendo la mano così in superficie si sente che la padella rilascia calore quindi è il momento di versarci l'impasto e vedi che si stanno formando delle bollicine tra un po' sarà il momento di girarlo ecco fatto poi queste le puoi farcire con cioccolato fuso miele, sciroppo d'acero come vuoi insomma perfetto come vedi è tutto pronto spero che entrambe le ricette ti siano piaciute se è così iscriviti attivando la campanellina tutte regalami un like e condividile su tutti i tuoi social io ti aspetto anche sul mio secondo canale youtube Erex in the Wonderland perché lì parlo della mia maternità beauty e molto altro inoltre devo ancora raggiungere il traguardo dei mille iscritti quindi se vuoi aiutarmi mi farebbe molto piacere e noi ci vediamo presto con una nuova leccornia e noi ci vediamo